E' stato trovato con 16 dosi di marijuana pronta per lo spaccio, nascosta negli slip. Un cittadino nigeriano è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile nel corso di mirati servizi antidroga. Okoro Uzoma, 31 anni, è stato fermato in via Tornatore nel quartiere Provvidenza con un quantitativo complessivo di 30 grammi di marijuana. All'uomo, oltre alla marijuana, sono stati sequestrati due telefoni cellulari e la somma di 97 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Infine è stato arrestato e portato al carcere Malaspina.